allora ragazzoni questo secondo me è un ottimo rilascio non è tanto rilascio il termine giusto ma il jump shot il jump shot cos'è il jump shot è questo guardate la sagoma cioè guardate il corpo del giocatore canista sta animazione che carica il tiro che voi dovete guardare da questo punto qui a questo ok quanto tempo ci mette ad andare al massimo dell'elevazione quindi ad esempio è così quando carica questo momento in cui dovete rilasciare semplice voi dovete guardare questo nel jump shot dovete guardare solo questo poi se trovate la combinazione creando il rilascio giusto ciò che vuol dire che se voi andate al momento giusto ma il rilascio è troppo lento se voi guardate soltanto il corpo quindi fate sempre ritardo perché non è voi dovete trovare un rilascio che appena siete dritti e rilasciate la difficoltà nel trovare le combinazioni nel rilascio è quella però importante scegliere come prima cosa il jump shot giusto c'è tanta roba quindi da questo momento qui a questo io guardo questo ne rilasci e basta non hai il tempo di guardare come venga il polso nelle situazioni in cui si è pressato cosa più semplice da guardare è il corpo quindi appena dritto io guardo questo poi ognuno guarda quello che vuole raga dopo l'ultima faccia rilascio flessibile serve cioè io la differenza l'ho vista mi sono entrati molti molti non verdi quindi mettetelo cecchino va bene anche bronzo tanto se vi marcano sbagliate quindi da viola e bronzo non cambia un cazzo in regia stop and go raga viola stop and go serve quando voi fate skillate sprint boost cioè invece di premere per forza l'r2 che è qui del quick stop per fermarvi veloce tirate potete tranquillamente non premere un cazzo vi farei passettini e li tirare quindi stop and go mi fa fermare prima il giocatore quindi mettetelo la giratore di blocchi raga lo tengo lo tengo bronzo lo tengo bronzo perché tanto oro non cambia un cazzo c'è un centro vi tiene e voi non potete fare un cazzo quindi mi tiene mi teneva i pantaloncini mi tira dietro e anche se state nel posto giusto non vi muovete proteggete il plato vostro il centro sta lì vi sfiora e viene vicino e dirà i pantaloncini è un glitch semplicemente quindi va bene anche bronzo artista di insegnamento raga io qualche stoppato l'ho fatto pure con bronzo artista secondo me è un bronzino lasciatelo poi il resto io l'ho messo così secondo me vanno bene così quest'altro dio bono 500 esulta basta lì aspetta preme prega ma che lavoro va dai 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 in favore 500 se imbecille non è passato davanti cazzo sono te ehi tra un blocco scusa scusa per la palla chicco scusa scusa fatica bank si si sto 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 bravissimo si si fuori fuori o le prende tira viola god bank si o le passo blocco vieni 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 bisogno di te bank ma gliela potevo da una pace più cazzo bank beh non mi piace non mi piace ah potevo dire l'affanculo la cazzata mia si 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 no 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 non rischiamo non rischiamo cazzo cazzo oh meno male ho oh 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 o c'è 15 punti dai 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 vieni vieni oh oh dieck godo d kasih vej C vieni 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 oh god Sì Buono Un bacchettino bravissimo Sì 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 Mamma mia Sì 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 Grazie a tutti